Ed ecco arrivare il primo giorno di scuola per i più piccini. Siamo andati a Quarrata, alla scuola primaria Fabrizio De Andrè di Santo Nuovo. Una giornata importante per i bambini. Tanta emozione per le famiglie, ma anche tanta responsabilità per le insegnanti che accompagneranno i bambini nei loro primi cinque anni di studio dell'istruzione obbligatoria. Stiamo aspettando i bambini che sono fuori al cancello. Entreranno cariche d'emozione loro e i loro genitori che li accompagneranno e siamo cariche d'emozione anche noi perché ogni volta che c'è un arrivo di nuovi bambini a scuola è sempre un'emozione grande. Non c'è limite alla patologia perché leggere è una magia. Una bella ripartenza, appunto senza distanziamenti, senza mascherine e quindi sicuramente un inizio migliore, sì, sicuramente più gioioso per tutti e anche per noi che non se ne poteva più di quelle mascherine, ecco. La nostra è anche una scuola digitale e quest'anno abbiamo sostituito le vecchie LIM con delle monitor touch che ci consentono di lavorare in maniera anche interattiva con gli alunni e questa è una grande risorsa. Buon anno scolastico a tutti gli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale che lavora nella scuola. Grazie.